Ci ho fatto viaggio di nozze, 25 di matrimonio, io il comandante Bossi è... Io quando vedo... per Rosalba, per il forum l'iBot. Per il forum l'iBot, sì. Faccio una breve introduzione, velocissima. Allora, siamo qui con il dottor Massa per la presentazione del catalogo 18-19 MSC Crociere, atmosfera bellissima, location stupenda, e adesso la parola al dottor Massa. Buongiorno, buongiorno a tutti i facilisti e gli amanti di MSC che tramite l'iBot ci servono supporto. Oggi è una giornata importante, mettiamo il catalogo 2018-19, in cui le novità sono veramente tantissime. Io mi abito con l'aiuto di LiveCop e leggendo il catalogo, qualche spiegazione che mi abito oggi, vorrete apprendere la vostra agenzia, che vi aspetto. Grazie dottor Massa.